Musica Musica Creeper Oh man So way back in the mine Got our pickaxe Andiamo Dove erano arrivati? Cioè da che parte devono andare? Da che parte devono andare Maina? Di qua No Allora Emiliano non parlare indietro che brutto Che cavolo è Ok Ma come si fa il marrone? Allora Ah come si fa il marrone? E tu devi dare tre Colori Che colore prendiamo? Il marrone Non c'è il marrone che sta rosso Se cado sono una merda Che è una merda Ok Abbiamo scoperto che è inutile Per fortuna ci ha arrivato Ah Era così semplice Fermo Visto che ci arrivi Clicca anche le altre due leve Problema è che non ci arrivo Allora fai così salta e clicca una leva Quando muori muori E poi rifacciamo l'ultimo La generalità di Emilio Ok Manca l'ultimo Pure quella Come capita capita ma la devi fare Questo sembra più semplice dai provo a fare L'ultima parola famosa L'ultima parola famosa Ecco Questa puntata la devo fare io Una alla volta Prima hai fatto tu Siamo in democrazia Anche se non c'entra la forza niente Ok Non mi sta funzionando lo spazio Devo premere shift Sì tu che non funzioni C'è qualcosa in fondo Non è in fondo Ho puntato sopra Quello era il sopra In fondo sopra? Che succederà tirando l'ultima leva? Non lo scopriremo mai Scusa fai quello di prima che sei riuscito a fare Ok Ce la faccio Ce la faccio C'è giuro Se c'è l'ultima volta Mi fai provare a me Ah Ecco perché non saltava Guarda ti faccio vedere come si fa Dai Te lo faccio senza credere Vai No 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 scherzano C'è posso pure cadere una volta Dai La prima volta che lo provo Eh Se non a merda se ce la vai Se siete a merda Bene Adesso che ho premuto tutte le tre lele Acqua Ok Dovrei tornare all'inizio Torna all'inizio Torna all'inizio Giustamente lui cade adesso Eh Scusa mandando l'acqua Vediamo Non mi dire che il gioco finisce così Ah si sale Che intelligenza Modestamente Non tu Che cacchio vuoi? Il creatore Certo Porto Ok Ma forse io penso che sia proprio Aspetta non le premere a cavolo Non le premere Ah Che niente Ok Ce ne deve essere una che è diversa dalle altre Scommettiamo Dai Secondo te qual è? C'è una appuntata Appuntaggio Vai Qual è? Allora Sono tutte rivolte in una maniera Ce ne deve essere una che è rivolta in un'altra No Tutte sono rivolte in diversa Comunque quando si scommettiamo che Indovina il primo colpo Dai Questa cazzo Non cazzo Non c'è Ahahah E Che Nooo Che 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 Cazzo ha fatto Cioè Madonna Beh bastava provarle una per una Ma non ho fatto una parola Un creeper gigante Un creeper gigante Ok Piedini Adossi slime Ok Qua ci serve una leva Che sarà qua dentro Invece non c'è Ah è qua Madonna sto rumore Ok Qualcosa mi dice Che ci sarà qualcosa Qualcosa mi dice che ci sarà qualcosa Appunto La fine si sta avvicinando Ah perfetto Abbiamo quasi finito Grazie 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 Allora Qua vero? I cubi dorati detto Scusa Eh va a quel paese idiota Ci erano rimasti incastrati? Guarda sotto il tuo naso No Devi colpire attraverso la porta probabilmente No 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 aspetta Torni indietro Non posso usare Aspetta Ma ti posso Non posso attraversarla infatti No ci deve essere il cubo dorato da qualche parte Che cocco Oddio Ok dimmi che non hai fregato il gioco a vuoto Torno indietro Attenzione che c'è solo quest'arco Indietro quanto? Torno indietro e copicci il nuovo cubo Ehm Che la porta Ehm No non posso Sì che allora non puoi Sì esatto Eh sì giustamente Oh no un command block Avevo scoperto l'inghippo Ecco l'aveva E' stata proprio sotto il naso? Vabbè Questa è la tagli però No Stiamo quasi alla fine Non prendere Colpisci col bottone di legno con la freccia per aprire la porta Perché devi usare la freccia per colpire il bottone di legno? Bottone di legno? Eccolo Non mai devo usare la freccia Puoi anche rompere e saltare Ormai abbiamo fatto di tutto in questo momento Sì Ah Ok La fine è sempre più vicina 6,39 o 74? O 79 Quanto fa? Facendo qualche calcolo mentale 359 diviso 56 Sì Qualcosa credo Problema 6 Non c'è bisogno di una calcolatrice Sì Io non ho fatto calcolatrice Comunque è C20H o H2O2 Quale è? H2O2 Ma che cacchiata Ok Qua Come si fa il marrone? Ah ecco perché come si fa il marrone Rosso più giallo? Yes No quello è il arancione Shh Bello Un genio Sei un genio Rosso più giallo Ma Distruggi Generatore Ricorrente Con il Creeper Cannone Bellissimo Per disattivare il blocco Dello scelto Dello sicurezza Ok Questo deve essere la parte più bella del gioco Il Creeper cannone Eccolo È un cannone TNT Vaffanculo Creeperoso però Che figo Che è successo? Niente Ho distrutto il generatore di corrente Dice Cioè? Ah porta Porta Perfetto Il Creeper cannone No Sì Complimenti È finita la custom map Ok Come abbiamo fatto tutto con grande onestà Aspetta non cliccare quel bottone Ah Ok Siamo in Creative mode Ok Andiamo a uccidere gli slime Che figo Orca di serie E noi abbiamo distrutto tutto Scusa Gira di fuori Magari c'è scritto bene Oh Andicappato Che sono Da sotto Da sotto Da sotto Da sotto Da sotto Prendete il fuoco Sì L'ossidiana Vabbè Questa era La nostra prima puntata Su Minecraft Probabilmente Ne faremo altre In diverse maniere Non so E magari In maniera arcane Ne imbrogliamo Sì Tentiamo tutto in meglio sempre Quindi Io Da Mojito E il signorino A fianco a me È tutto Signorino Può più grandi È più grande di me Da final Da Mojito È tutto Ciao Ciao Ciao